A guato a piazza mercato a Napoli in fin di vita un pregiudicato colpito all'addome Vincenzo Papi secondo le prime indiscrezioni degli investigatori farebbe parte del clan dei Mazzarella. Amianto in strada, uno sfregio dei clan, la denuncia del parroco di Caivano Don Maurizio Patriciello affidata al social network di Facebook. Non ci sono i soldi per il funerale, il comune non interviene, la salma resta nove giorni in obitorio, il paradosso drammatico accaduto a Napoli, i familiari dal comune di Napoli, nessun aiuto. Io sono del Napoli, non c'è niente con Real, così il matador Cavani smentisce seccato un suo abbandono della maglia azzurra, nonostante le polemiche dei giorni scorsi col patron dell'Aurentis. Buongiorno dalla redazione di 8 News, bentrovati all'appuntamento di metà giornata con la nostra informazione. Ad aprire oggi il nostro telegiornale, lo abbiamo ascoltato assieme dai titoli, è la cronaca nera che racconta di un agguato avvenuto ieri sera in pieno centro a Napoli, a Piazza Mercato. A rimanere gravemente ferito per dei colpi all'addome è un pregiudicato. Si tratterebbe di un agguato di camorra, secondo le prime indiscrezioni degli investigatori, l'uomo infatti sarebbe vicino al clan di Mazzarella. Marcello Curzio Scene da avere proprio far west metropolitano, spari e terrori tra i passanti a Piazza Mercato nel centro storico di Napoli. Due le persone coinvolte nell'agguato, Vincenzo Papi, 29 anni, è stato ferito gravemente ed è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare, dove è stato sottoposto ad un delegato intervento chirurgico. Giuseppe Persico, 31 anni, è invece solo ferito leggermente a un gomito e entrambi sono già noti alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della squadra mobile di Napoli, due che hanno entrambi i precedenti di polizia, sono stati colpiti da due uomini a bordo di uno scooter, mentre camminavano a piedi tra Vico Sopramuro e Piazza Mercato. Ancora non è chiaro se fossero insieme. Papi, che abita in Via Santi, ha precedenti per stupefacenti usure e distorsione ed è imparentato con i vertici di una cosca omonima. È arrivato a bordo del suo scooter al pronto soccorso di Loreto Mare con una ferita profonda all'addome. Persico è stato arrestato nel 2006 in un blitz contro il clan Mazzarella, da precedenti per associazione per delinquere e distorsione. Abita al Vico Sopramuro, a poca distanza dal luogo della sparatoria. La scientifica ha trovato sul posto 5 bossoli calibro 7,65 e a terra abbandonata una pistola di fabbricazione tedesca con matricola a brasa. Marito e moglie di 63 anni, lui titolare di un albergo, lei di una farmacia, minacciano e darsi fuoco dinanzi al Tribunale di Napoli. Loro denunciano di essere vittime degli usurai, non riescono più a pagare i debiti. I contratti con queste persone sono armati di un accendino e di una tannica di benzina. E' l'inchiesta della procura di Napoli su presunte irregolarità per quanto riguarda i contratti di 41 società calcistiche, l'ennesimo filone di calciopoli che riguarda anche 8 contratti per quanto riguarda i giocatori del Napoli. E' la banda Mazzoni, quella che annovera tutti gli uomini del procuratore argentino più gettonato e meglio in contatto nel passato con il calcio Napoli. Non fosse che per il numero di trattative che ha portato a buon fine con il club azzurro, in entrata soprattutto, ma pure in uscita. Lui è Aleandro Mazzoni. Tra i top player che giacciono sulla sua agendina c'è Ezechiel Lavezzi. Ma da queste parti, area calcio Napoli, di calciatori assistiti da donna Aleandro, si annoverano pure il tanque Denis, oggi all'Atalanta. L'ex azzurro Datolo, il difensore, oggi in forza all'Inter, Ugo Campagnaro. E poi Fernandez, fresco di ritorno dalla Spagna. E Fidelef, reduce da una stagione sulla panchina, soprattutto del Parma. Oltre al cameo Chavez, poco più di un'apparizione in maglia azzurra. Sono solo alcuni dei 50 contratti su cui indaga la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'ultima inchiesta che scuote il mondo del pallone, battezzata Calcio Malato. Indagine condotta dalla Procura di Napoli, che coinvolge anche altri due calciatori vicini al club di De Laurentiis, Emanuele Calaiò e Salvatore Aronica. Ma figurano giocatori che sono passati per tutta la Serie A, gente come il centrocampista del Milan Nocerino, ma anche Ciro Immobile, Giuseppe Sculli e poi Contini, Paro, Graffiedi, Dorlan, Arcari, Arce, De Grottaglie, Mora, Amodio, Fontanello, Foggia, Brian, Battaglia, Botta e Guzman. Nessuno di loro è indagato, così come al momento non lo sono le società, 41 in tutto, dalla A alla Lega Pro, al centro dell'inchiesta. Della massima serie eccezione fatta per Cagliari e Bologna ci sono praticamente tutte. Neppure le blasonate Juventus, Milan e Inter ne sono immuni dall'indagine nata un anno fa dopo una prima visita della finanza nella sede azzurra di Castelvolturno. Questa volta le fiamme gialle hanno acquisito la documentazione negli uffici della Fil Mauro, la società di produzione del presidente De Laurentiis, che ha sede a Roma. L'ipotesi di reato e di associazione per delinquere è finalizzata alla frode fiscale collegata ai contratti dei calciatori. La procura di Napoli parla di sistematiche e fatturazioni di operazioni negoziali inesistenti. Oltre a Mazzoni sono altri 11 procuratori coinvolti, tra cui spicca il nome di Alessandro Moggi, rampollo dell'ex DG della Juve, Luciano. A leggere un comunicato, a firma del procuratore aggiunto Giovanni Melillo, che coordina il pool che si occupa di reati collegati a manifestazioni sportive, si era avvisata la necessità di verificare i presunti meccanismi di aggiramento delle regole di tassazione dei contratti per sottrarre al fisco ingenti quantità di denaro. Un fenomeno generalizzato che passa per la progressiva levitazione degli oneri di ingaggio dei giocatori, che va di pari passo con la necessità delle società di assicurarsi i calciatori migliori. Ecco perché l'indagine punta a chiarire diversi aspetti dell'operatività delle società dal punto di vista fiscale e tributario, dai rapporti tra club, calciatori e agenti, alle modalità di trasferimento dei giocatori. Insomma, ancora una volta trema, come il gergo vuole, l'Italia del pallone. Una volta si frodava per la vittoria, poi per le puntate vincenti. Oggi, ad essere frodato, potrebbe essere l'erario, ovvero i cittadini contribuenti, molti dei quali tifosi, di questo calcio che si immagina malato. Nella serata di ieri era arrivata anche una nota di un portavoce della società sportiva Calcio Napoli, Nicola Lombardo, che si era affrettato a precisare che, per quanto riguarda gli azzurri, si era trattato soltanto di acquisizioni di documenti e non di indagini così approfondite. E dunque l'inchiesta è quella del calcio malato, l'ultima in ordine di tempo, ma la procura di Napoli più volte si è occupata del calcio, più volte se ne è occupata da calciopoli, sino a calcio scommesse. In principio fu Calciopoli, versione sportiva del più noto scandalo Tangentopoli, che segnò la politica degli anni 90. La maxinchiesta sulle combine nei campi di calcio affonda le prime radici nel 2006, quando la procura di Torino scoperchia un sistema di corruzione di arbitri e giocatori nelle mani del numero uno del calcio italiano Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, che avrebbe operato nel totale interesse del club bianconero, agevolando in ogni modo durante la stagione calcistica 2004-2005. Il filone napoletano dell'inchiesta si avviene nel 2008 per gli imputati, che avevano scelto il rito abbreviato. L'accusa più grave era quella di associazione a delinquere, finalizzata alla frode sportiva. Nel 2009 i giudici confermarono Napoli come sede del processo e sul presupposto di una vittoria illecita nel 2006 della Juve nello Scudetto, nel dicembre del 2009 furono emesse le sentenze, tra cui tre anni di reclusione per l'ex amministratore delegato della squadra bianconera Antonio Giraudo. Il processo corrito ordinario si concluse invece nel novembre del 2011 con la condanna di altri 16 imputati. Tra questi, cinque anni e quattro mesi di reclusione furono inflitti allo stesso Luciano Moggi, con l'accusa di promozione di associazione a delinquere. L'udienza di appello a Napoli, prevista per lo scorso 24 di maggio, è stata rinviata al prossimo 3 di luglio. Insomma, il caso è tutto ancora aperto. Ma il calcio finisce più volte nelle carte della Procura Partenopea, legato anche alla criminalità organizzata. È il caso di calcio scommesse, inchiesta che punta a portare a galla i tentativi di combini di partite ad opera di associazioni criminali. E a smuovere gli alti vertici del calcio partenopeo, arrivano nel 2012 le dichiarazioni dell'ex terzo portiere del Napoli, Matteo Gianello, che dichiarò una tentata combina attorno alla partita Sampatoria-Napoli del 2010, tentando di corrompere i compagni di squadra Paolo Cannavaro e Gianluca Grava. Alla fine la società fu penalizzata di due punti, pagando l'ammenda di 50.000 euro. In appello fu revocata la squalifica Cannavaro-Grava, quella di Gianello invece fu ridotta a 21 mesi. A Napoli spunta anche la questione lo russo, ovvero la presenza a bordo campo durante il match Napoli-Parma del 2010 del figlio di un noto bossa, ma che all'epoca dei fatti, fecero sapere dalla procura stessa, non era ancora un latitante ricercato. Dichiarava al fisco un reddito di 20 euro, ma ne nascondeva ben 2 milioni. È quanto scoperto dai finanzieri a Dragropoli, in provincia di Salerno. La presunta truffatrice è un'imprenditrice a cui sono stati sequestrati 7 immobili, tra cui una lussuosa villa. Ci occupiamo adesso del caso di riciclaggio, il caso in cui è coinvolto anche l'ex capo della squadra mobile Vittorio Pisani. Slittano al 17 settembre le richieste dei pubblici ministeri Sergio Amato ed Enrica Parascandalo. Relative agli imputati del processo Megari, ieri in aula si è protratta per ore la requisitoria del PM Amato, che non ha fatto dunque in tempo a formulare le istanze di condanna. Tutto rimandato dunque nei confronti dell'ex capo della squadra mobile Vittorio Pisani, degli imprenditori e fratelli Marco Massimiliano e Carmine Iorio, molto conosciuti in città. L'inchiesta si riferisce al 30 giugno del 2011, quando gli uomini della DIA di Napoli arrestarono 15 persone e sequestrarono bar e ristoranti. L'accusa era che si potesse utilizzare proprio i ristoranti per il riciclaggio di affari della Camorra. Un transessuale di 31 anni è stato trovato morto a Salerno nei pressi dello stadio Arechi con una ferita alla testa. Secondo quanto ricostruito dai militari giunti sul posto, l'uomo potrebbe essere stato investito e ucciso da un'auto pirata. Sull'asfalto, infatti, sono rimasti i segni di una frenata. Ci occupiamo adesso del capitolo rifiuti. A parlare in un'intervista il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che dice che ci occuperemo anche di Giuliano. Il sindaco ha infatti detto di essere pronto a smaltire l'eco-balle. Marcello Curzio. I rifiuti sono sempre stati in cima alle nostre preoccupazioni. Li abbiamo tolti dalle strade e abbiamo spinto sul porta a porta. Ora però è arrivato il momento di mettere a punto gli impianti. Luigi De Magistris, in un'intervista al Colidiano e il Corriere del Mezzogiorno, fa il punto sul problema rifiuti, questione che resta ancora irrisolta nella sua parte strutturale. Rifiuti in strada non ce ne sono più. È la prima emergenza che abbiamo affrontato e risolto. Certo, aggiunge il primo cittadino di Napoli. Poi è stato iniziato un percorso lungo e ci siamo scontrati con l'assenza assoluta di risorse. Non è però mai mancata la spinta forte per il porta a porta insieme alla decisione di trasferire i rifiuti in Olanda che resta una soluzione temporanea e alle 14 isole ecologiche. Ora, dice il sindaco di Napoli, ci concentriamo sui bandi per gli impianti che trattano i rifiuti. Su questo aspetto non escludiamo la possibilità che i privati possano partecipare. Resta però il macigno delle egoballe. Depositate a Giuliano compattano anche tanti rifiuti napoletani e vanno smaltite in qualche modo. Non sono egoista, dice il sindaco di Napoli. È giusto sedersi a un tavolo con regione e governo per trovare un accordo per la campagna. Non indendo guardare solo all'orticello napoletano. Ognuno, insomma, deve farsi carico del proprio peso. Amianto in strada, uno sfregio dei clan. La denuncia arriva direttamente dal parroco di Caevano e simbolo dell'associazione Terra dei Fuochi, Don Maurizio Patricello, che affida alla social network di Facebook appunto la sua denuncia e parla di amianto sversato sul tratto autostradale di Caevano. Aversa. Sentiamo. C'è dell'amianto sbriciolato sversato sull'asse mediano e tutti gli automobilisti che passano nella zona di Orta di Atella farebbero bene a tapparsi ermeticamente nelle auto, serrando bene i finestrini per evitare di respirare il pericoloso materiale che, qualora si pissa anche in minima parte nei polmoni, porta alla morte sicura sviluppando un tumore. L'allarme viene lanciato via Facebook da Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caevano, che conduce una strenua battaglia per salvare l'ambiente devastato dai rifiuti tossici depositati per anni da imprese del Nord, complici clan locali. Padre Patriciello, che combatte contro lo scempio che continua in Campania nonostante le denunce e i controlli, soprattutto in quell'area denominata Terra dei Fuochi, tra Caevano e Aversa, spiega che è stato sversato amianto sbriciolato sulla strada, mettendo a rischio la salute dei ghignari automobilisti. Le macchine passano, guardate questo amianto rotto, più avanti addirittura è completamente sbriciolato, quando in Montizia su questa strada non c'è uno straccio di una telecamera, le telecamere esistono solamente per riprendere gli automobilisti e non darli, guardate quanto amianto sbriciolato, vi ricordo che basta solamente una minima quantità per dare il messo teleoma a distanza anche di anni, in un bambino, quante macchine che passano di qua, automobilisti ignari, bambini ignari che passano, respirano, e nessuno si muove, nessuno si muove. Sanzioni per circa 1000 euro sono state combinate dalla Guardia Costiera di Pozzuoli in provincia di Napoli nel corso dei controlli con le moto vedette lungo la costa Fregrea. Ad essere multate sono state sia proprietari di acquascooter sia dei pescatori sportivi che appunto pescavano senza le dovute assicurazioni. Non ci sono i soldi per il funerale, il comune di Napoli non aiuta e la salma di un uomo di 55 anni senza possibilità economiche resta nell'obitorio dell'ospedale Cardarelli per nove giorni. La denuncia dei familiari dell'uomo e il comune di Napoli non ci ha aiutati in nessun modo. Non ci sono i soldi per il funerale, il suo cadavere resta all'obitorio. L'assurda vicenda accade a Napoli dove il corpo di un uomo di 55 anni, Giovanni, lavoratore saltuario morto lo scorso 17 giugno al Cardarelli, giace ancora lì perché i familiari non hanno i soldi per le sequie. Senza casa, senza speranze viveva in uno scantinato di qualche metro quadrato a Marianella mantenendosi con i pochissimi soldi che riusciva a mettere assieme raccogliendo di tanto in tanto frutta e verdura nei campi del quartiere. Giovanni è morto per un arresto cardiaco ultimo atto di una feroce malattia che lo ha stroncato in meno di sei mesi. Il suo corpo però è ancora lì all'obitorio del nosocomio in attesa che il carro del comune lo porti via. Soldi per pagare un'impresa di pompe funebri Giovanni non ne aveva e noi nemmeno, spiega suo cugino Pasquale. Così ci siamo rivolti al comune di Napoli per chiedere il servizio di trasporto gratuito. Ad oggi non si è visto nessuno. I merici del Cardarelli ci hanno detto che non possono più tenerlo in obitorio. Solo grazie alla collaborazione di un gruppo di amici e di parenti si è messa in moto la macchina della solidarietà. Stiamo organizzando una colletta dicono i familiari abbiamo già raccolto buona parte del denaro necessario e per fortuna abbiamo trovato un'agenzia che ci farà un prezzo di favore solo 2.500 euro. Oggi salvo ulteriori problemi verrà finalmente celebrato il funerale in una piccola chiesa del quartiere. Ed è stata proprio la celebrazione della cerimonia in chiesa a creare altri problemi. Già perché agli addetti al servizio dei fonti di Palazzo San Giacomo avevano comunicato alla famiglia di Giovanni che quando e se avessero recuperato la salma non l'avrebbero portata in chiesa per dare la possibilità di celebrare il sacramento bensì direttamente al cimitero dove al massimo potevano sperare in una benedizione. Da qui la protesta dei parenti che per nulla al mondo avrebbero seppellito il proprio caro senza dargli l'ultimo saluto. Ma oggi grazie solo alla generosità di amici e parenti non certo delle istituzioni Giovanni avrà il suo funerale. È un uomo di 27 anni di origini ucraine è stato fermato dai carabinieri il quale principale indiziato per la morte di una donna di 50 anni trovata uccisa in casa a Polla in provincia di Salerno i carabinieri avevano trovato il corpo della donna nuda con un profondo taglio alla gola e dopo l'omicidio qualcuno ha dato alle fiamme l'appartamento ora il 27enne è stato fermato ed è stato sottoposto ad interrogatorio. Ci occupiamo adesso di una strana vicenda di una curiosa vicenda di una neo delibera del nuovo sindaco di Avellino Paolo Foti il quale ha vietato con la sua prima delibera l'uso del super santos del pallone di gioco nel centro cittadino di Avellino la prima delibera che suscita naturalmente tantissime polemiche ma per chi dovesse utilizzare il pallone da calcio in pieno centro ci sono multe che arrivano sino a 500 euro pensate e anche naturalmente il sequestro del pallone. Ci occupiamo adesso di Città della Scienza alla protesta dei lavoratori da mesi senza stipendi anche e prima del rogo del 4 marzo scorso il rogo che ha completamente distrutto il polo museale di Coroglio adesso chiedono che vengano stanziati i fondi promessi dallo Stato sin dal 2008 altrimenti annunciano una protesta direttamente a Roma Marcello Curzio i dipendenti di quel che resta di Città della Scienza sono letteralmente esasperati pretendono a gran voce dal Ministero per l'Istruzione il trasferimento alla struttura di fondi già stanziati nel 2008 e a quanto pare mai versati organizzeremo una manifestazione a Roma giovedì prossimo dicono i lavoratori la decisione è stata presa al termine di una follata assemblea svoltasi alla fondazione Iris i dipendenti denunciano il mancato pagamento di ben 12 mesi di stipendi e le promesse non mantenute da parte delle istituzioni i lavoratori inoltre evidenziano che proprio il 27 giugno sarà un mese esatto dal giorno in cui fu redatto un verbale in cui il Ministero si impegnava a corrispondere quando dovuto entro e non oltre il 20 giugno circa un milione e mezzo di euro in relazione al contributo dell'anno 2008 dell'accordo di programma tra Ministero dell'Istruzione e Regione Campania i lavoratori sono arrabbiati amareggiati spiega Maria Bitolo segretario Filcam della CGL di impegni assurdi dal Ministero per l'Istruzione con la supervisione del sottosegretario Marco Rossi Doria prevedevano l'erogazione del pagamento entro il 20 giugno ad oggi non è arrivato ancora niente questi lavoratori hanno un anno di stipendi arretrati ecco perché domani saranno in piazza davanti alla sede del Ministero con un presidio permanente i lavoratori della SMA azienda in aus della Regione Campania che si occupa di incendi boschivi hanno occupato la sede di Caserta a pochi passi dalla stazione e dalla reggia della città i lavoratori lamentano quattro mesi di stipendi arretrati alcuni di loro sono saliti sul tetto altri invece hanno completamente mandato in tilt il traffico cittadino è ancora lavoro ancora in provincia di Caserta ci spostiamo però nell'indesit dove l'accordo ieri tra i sindacati Fim, Fium, Will e il Ministro dello Sviluppo Zanonato ancora non c'è ieri l'incontro a Roma per fare il punto sulla situazione esuberi per quanto riguarda infatti lo stabilimento di Teverola in provincia di Caserta si parla di 400 esuberi sentiamo il Ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato incontrando i sindacati dei lavoratori casertani sulla vertenza indesit ha dichiarato che la volontà del Governo Letta di intervenire per salvaguardare i posti di lavoro e le attività di produzione nel comparto dell'elettrodomestico lo hanno comunicato le segreterie nazionali e regionali di FIOM Fim e Will dopo l'incontro al Ministero durante il quale è stato confermato al Governo il no al piano di riorganizzazione del gruppo i sindacati di categoria hanno illustrato al Ministro le ragioni per cui considerano il piano di riorganizzazione non accettabile si tratta di un piano che impoverisce infatti le attività industriali riduce l'occupazione e prevede addirittura la chiusura di stabilimenti e la delocalizzazione di parti consistenti della produzione i sindacati hanno rappresentato al Ministro il rischio concreto di scelte analoghe anche da parte di altri gruppi nel settore dell'elettrodomestico con conseguenze gravissime sul piano occupazionale i sindacati hanno quindi rappresentato al Ministro Zalonato la necessità di un intervento di politiche industriali per il comparto e nella fattispecie per quanto concerne il caso Indesit per una modifica del piano industriale lo hanno sottolineato anche al termine dell'incontro abbiamo ribadito ha riferito la segretaria nazionale della FIM CISL Anna trovò la necessità di interventi di politica industriale a sostegno del settore capaci di costruire una prospettiva di sviluppo e occupazione dell'intero comparto per evitare che si ragioni sempre in emergenza e i riflettori sono puntati soprattutto nella provincia di Caserta colpita appunto dal piano dei tagli del gruppo Indesit Coldiretti Campania presenta WECOP l'appuntamento con l'assemblea e per domani le 10.30 all'hotel Vesuvio con la partecipazione del presidente della regione Campania Stefano Caldoro del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del presidente nazionale di Coldiretti Sergio Marini l'evento servirà ad approfondire il significato sindacale servizi che metterà in campo la nuova centrale cooperativa che gode già del riconoscimento e dell'autorizzazione quale associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo e ci spostiamo adesso allo stadio San Paolo di Napoli la deadline per il restyling è ormai imminente si parla del prossimo 30 di giugno il comune di Napoli cerca di correre ai ripari inserendo anche un privato ma l'ultima parola spetta al patrono della società sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurettis è corso contro il tempo di the line il prossimo 30 di giugno data ultima utile per rilasciare l'agibilità per lo stadio San Paolo di Fuorigrutta il comune corre dunque ai ripari e propone una società mista a staldi Napoli Calcio per sbloccare l'affare San Paolo vale a dire l'arvimping totale della fatiscente struttura a casa della società sportiva Calcio Napoli questa la proposta del comune di Napoli ad Aurelio De Laurentis patron degli azzurri e la mossa di Palazzo San Giacomo sembra tanto ispirarsi ad una strategia per capire a sua volta le intenzioni di De Laurentis dopo le frequenti telefonate in queste ultime settimane tra sindaco e patron la sensazione è che il dialogo non sia ancora su un binario unico ma anzi su un binario morto in sostanza il comune vuole mettere De Laurentis di fronte a una proposta concreta e amministrativamente percorribile ma toccherà al presidente l'ultima parola perché senza squadra di calcio non si fa nulla e al momento quest'ultima parola ancora non c'è il restyling costerà 100 milioni un'operazione importantissima la Staldi è pronta a metterci una quota a parte di soldi il know-how per fare i lavori oltre al progetto pronto ad essere riadattato alle esigenze della società sportiva in pratica il progetto prevede un restyling per 55.000 posti a sedere con tempi di realizzazione stimati in due anni senza mai interrompere l'attività del calcio Napoli all'interno dello stadio sono previsti una clinica dello sport un museo della storia del calcio Napoli ristoranti e apertura 7 giorni su 7 e ancora il progetto prevede 680 posti autointerrati e 18 skybox per i VIP per adesso dal produttore romano ancora nessuna dichiarazione ma di nuovo l'ultima parola aspetta solo a lui anche Lina Sastri vittima di un furto in casa a denunciare il furto nell'appartamento romano dell'attrice il suo collega e amico Leopoldo Mastelloni a sua volta vittima di ben due furti nei suoi appartamenti napoletani contattata dall'Ansa l'attrice ha dichiarato di essere sconvolta di non essere ancora riuscita a visitare il suo appartamento ma ipotizza che i ladri potrebbero essere entrati in casa tra le 16 e le 18 di ieri pomeriggio non ho nulla di valore ha detto l'attrice ma rimane il fatto che qualcuno ha violato la mia intimità si chiama artigianalmente.org ed è un nuovo progetto varato per poter avvicinare i giovani al mondo del lavoro e soprattutto permettergli di orientarsi all'interno di questo presente anche alla presentazione appunto del progetto anche l'assessore comunale Alessandra Clemente si intitola Artigianalmente diamo una mano alle idee la full immersion di incontri durante i quali è possibile vivere un'esperienza di confronto e di arricchimento con i responsabili delle aziende e il mondo accademico al convegno di presentazione ha preso parte tra gli altri l'assessore ai giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente se messi insieme ai ragazzi di Napoli sono veramente un'intelligenza collettiva vincenti ha detto artigianalmente è un progetto che ambisce appunto a creare un ponte innovativo tra i tanti ragazzi che vogliono accedere al mondo del lavoro ma che spesso da soli non riescono ad orientarsi oggi questi 22 progetti di cui artigianalmente è veramente un'eccellenza dimostrano come si è messi insieme i ragazzi di Napoli sono veramente un'intelligenza collettiva vincente questo è un progetto che cosa ambisce? ambisce a creare un ponte innovativo tra i tanti ragazzi che vogliono accedere al lavoro ma che spesso da soli non sanno quali possono essere i giusti contatti attraverso il portale artigianalmente invece accedono a che cosa? dei mentoring che sono le eccellenze napoletane che decidono di mettersi in discussione e di essere dei supporter l'evento rientra nel più ampio progetto il clan degli artisti promosso da Comune di Napoli e Regione Campania artigianalmente hanno spiegato i promotori intende dar vita ad un nuovo modo di fare squadra tra giovani e imprese di Napoli in primis attraverso appunto la piattaforma online artigianalmente.org che mette in comunicazione le società partner ed i giovani under 35 l'evento promosso dall'associazione culturale Atena 2013 è patrocinato da Regione Campania assessorato ai giovani alle politiche giovanili creatività e innovazione del Comune di Napoli e ci occupiamo adesso di spettacolo porterò a Salerno tutta la mia energia anche se ognuna delle mie esibizioni è diversa dall'altra e quindi non so che cosa potranno aspettarsi i miei fan quanto ha dichiarato Lorenzo Cherubini in arte giovanotti a proposito dell'evento che si terrà il prossimo 2 di luglio allo stadio Arecchi di Salerno con questo concerto vorrei portare nelle città italiane una botta di energia come un grande flash una fotografia in movimento la radiografia di quanta vita c'è in ognuno di noi per avere conferma che possiamo farcela che siamo qui ora siamo noi e siamo vivi a parlare giovanotti al secolo Lorenzo Cherubini in un'intervista rilasciata al quotidiano la città di Salerno il megaconcerto che si preannuncia già come l'evento dell'estate 2013 è infatti in programma per il prossimo 2 di luglio allo stadio Arecchi di Salerno dove giovanotti andrà in scena con il suo backup tour 2013 lo scorso 14 di giugno collegato in videoconferenza la presentazione ufficiale dell'evento al comune punto di Salerno Lorenzo si era detto entusiasta della tappa campana del suo tour negli stadi ma rammaricato per non essersi potuto esibire a Napoli è assurdo che una città come la vostra non abbia spazi adeguati per la musica aveva detto è triste soprattutto ma adesso l'artista si concentra su Salerno e annuncia che quello della città campana sarà un concerto indimenticabile anche se ogni sera è un'emozione diversa do tutto me stesso sul palco aveva detto in conferenza giovanotti e ogni volta alla fine mi sembra impossibile esibirmi di nuovo il cantante toscano è poi particolarmente legato al cilento che come lui stesso più volte ricorda lo ha visto iniziare la sua carriera di DJ nelle discoteche di Palinuro e Marina di Camerota di quegli anni ho ricordi bellissimi dice mitici direi non so più dove sta il ricordo vero e la fantasia sul piano puramente tecnico infine Lorenzo ammette di aver cambiato il proprio genere e che proprio grazie a quel cambiamento che è riuscito a restare sulla cresta dell'onda anche se cambiare sottolinea è stata una cosa assolutamente naturale una crescita più che altro in linea con gli anni i suoi che passavano adesso la linea torna alla regia per una breve pausa pubblicitaria noi ci rivediamo subito dopo per parlare di sport di nuovo in studio con la nostra pagina sportiva io faccio parte della Napoli appartengo al club e sarà proprio con la mia squadra che deciderò qual è la cosa migliore da fare oggi devo finire la Confederation Cup e parlare faccia a faccia col presidente ho chiesto migliaia di volte alla mia famiglia di tacere perché così mi danneggiano sono le dichiarazioni del Matador Cavani che parla del suo futuro il bomber del Napoli impegnato con l'Uruguay nel torneo in Brasile ha rilasciato un'intervista ad un quotidiano spagnolo sono sicuro che con De Laurentiis sapremo scegliere la cosa giusta da fare per entrambi ha detto Cavani Napoli mi ha dato la possibilità di crescere e di diventare quello che sono dietro tutto questo c'è sempre stato il sacrificio dei miei compagni e di tutto lo staff anche io ho dato tanto al Napoli ha detto e darò tutto sino all'ultimo giorno in cui indosserò la maglia azzurra se resterò a Napoli ci saranno tifosi che capiranno e altri invece che non lo faranno ma non mi piacerebbe andarmene dalla porta del retro ma dalla porta principale so che per molti però questo potrebbe essere un problema Benitez mi hanno detto solo cose positive sul suo conto ha precisato poi Cavani è un grande tecnico ciò di cui il Napoli aveva bisogno Cavani infine parla del Real Madrid e dice è uno dei migliori club al mondo ma non c'è nulla di concreto oggi io sono del Napoli e continuo ad esserne orgoglioso se un giorno dovesse andare via sarei sicuramente però preparato ad arrivare in un club più grande e con le dichiarazioni di Cavani si chiude questa edizione di Otto News la nostra informazione ritorna puntuale alle 19.30 grazie a tutti per averci seguito buona giornata grazie a tutti